cos'è? è Boomer Kramers oggi quant'è? ma sai che non lo so io ma come cazzo si fanno? non l'ho studiato oggi è il 12 12 sabato marzo marzo 3 20 22 22 siamo a Invorio la palestra è la palestra di Borgo Maione non mi ricordo il nome adesso poi te lo dirò comunque Invorio Superiore e niente qua abbiamo parcheggiato e qui c'è l'imbocco guarda eh guardate del sentierino che porta lì una palestra del Caio di Borgo Ma Nero palestra di roccia in ricordo di Giacomo Ruga il nome poi ve lo vedremo qua ci sono i cartelli ora saliamo su di lì vediamo oggi brutto tempo cioè brutto nel senso brutto dappertutto il muvolo allora abbiamo deciso di tentare anche oggi su una su una falesia visto che la settimana scorsa abbiamo trovato la neve e carattere è bello il sentierino è anche suggestivo diciamo è vero 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 una spina nel dito mi sembra ma cazzo si è staccato pure questo ma vaffan è vero con i zoom sto andando giù un'altra volta è vero le scarpe slacciate ah ah e ma che cazzo la cazzo lo so la cazzo è vero E qua sono venuto a cacare, è lì. Su, a filar, beh se non vuoi fuori. Ho rischiato la vita. Allora, guarda. Un smitrogliato di spigli. E beh, va bene, lascia lì. Cambia spigli qua. La via è di lì. Qua è quella di... Qua è il nodo. È la via di prima. Come ti dira la volta? Fatti cazzatura, fate come ho fatto io. Ma sono piede lì e poi mi ho aperto le gambette. Ma sì che va bene. Che cosa è che devo tirare? Che cazzo di scarpe di merda. Ma cazzo... Capisco, le delinci andavano. Secondo me l'hanno fatto per... Perchè... Però tengo, no? Perchè... 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 Perfè... Perchè... ciao ragazzi ciao giornata conclusa abbiamo rotto il ghiaccio un attimino con le falesie siamo tolti addosso quei 20 anni di ruggine qualcosa di più adesso magari vediamo di alzare piano piano l'asticella perché oggi abbiamo strisciato come dei verbi però fa niente il nostro livello è quello vabbè comunque contenti vediamo la prossima soddisfatta bella simpatica vicino alla strada e comoda e comunque abbordabile alla prossima ragazzi ciao